Grande entusiasmo e soddisfazione per la rappresentativa maschile dell'Abruzzo, composta dagli studenti dell'IS, Vincenzo Moretti di Roseto, che ha conquistato l'argento nella competizione internazionale di basket 3 contro 3. Una finale emozionante ha visto la squadra, composta da Alessio Fabris, Danilo Lipschi, Mal Tuzuni e Paolo Scarpone, confrontarsi fino all'ultimo secondo, cedendo il primo posto solo al Brasile per un singolo punto allo scadere del tempo. Il capo delegazione per l'Abruzzo, Antonello Passacantando, ha guidato la squadra attraverso un percorso che li ha visti crescere gara dopo gara, raggiungendo un traguardo prestigioso in un contesto di sana competizione internazionale. Nel corso dell'evento, la delegazione italiana ha complessivamente riportato tre medaglie, dimostrando talento, resilienza e spirito di squadra. Secondo il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale, Massimiliano Nardocci, i nostri giovani atleti, insieme agli insegnanti e ai dirigenti scolastici, hanno dimostrato che il valore dello sport non si misura solo con le vittorie, ma con la capacità di vivere, esperienze inclusive e arricchenti. Lo sport è palestra di vita, ha detto Nardocci. Ogni gara è un'occasione di crescita personale e culturale che arricchisce il bagaglio educativo e umano di ciascuno al di là del risultato finale. Le giornate di gara si sono concluse con un bilancio altamente positivo per l'Italia che, oltre alle medaglie, porta a casa una forte testimonianza di sportività, cultura ed inclusione.